Signore e signori buonasera, benvenuti, io sono Antonio, detto Totonno, ex capitano e bandiera storica del calcio Napoli e questo signore qui alla mia destra è Dino. Pronto, Presidente, esorda c'è stanno. Prima di questi 59 giorni, noi non avremmo mai immaginato di poter venire a Barcellona e trattare per il più grande calciatore di tutti i tempi. Da noi con Maradona possiamo realizzare l'unica cosa che veramente conflumina, vincere lo più grande calciatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.